Maestro, sarà una settimana di grandi eventi a Pescara con questa nuova edizione di Pescara Liberty Festival, musica, cultura, tanto altro, per tutti i gusti. Sì, ci sarà tanto, ci saranno le fontane luminose, ci saranno orchestre, prime esecuzioni assolute, il famoso Neo Liberty che io voglio portare avanti come genere filosofico e artistico. Ci sarà Antonella Ruggero, ci sarà Andrea Bosca, ci sarà Deborah Caproglio, ci saranno cantanti, artisti, ci sarà Maurizio Rolli, il famoso jazzista con una big band. Ci saranno tante di quelle cose e le fontane luminose dell'anno scorso, altre fontane luminose ad aprire tutta la manifestazione. Che messaggio vuole lanciare questo festival? Vuole lanciare un messaggio di speranza, perché Liberty nasce come filosofia del sogno e della speranza in un momento in cui la realtà è particolarmente dura. Nacque così, oggi ci troviamo in una situazione generale altrettanto difficile e quindi il Neo Liberty vuole lanciare un messaggio di sogno, speranza e una indicazione per un mondo finalmente migliore.